Lo spettacolo del pomeriggio del 23 dicembre alla Sala Verdi, ore 17, è uno spettacolo che ruota intorno al tema della danza e teatro integrati. Sono un approccio sociale dell'arte, di questi linguaggi, che portano in scena 14 danzatori e attori con disabilità diverse, tra disabilità fisiche e mentali, che danzeranno insieme a ballerini normodotati e anche attori e attrici normodotati. Quindi sarà uno spettacolo che porta in scena un preciso modo di fare teatro e danza e con un obiettivo sociale. Saranno diverse le ragazze e i ragazzi di Fano coinvolti in questo spettacolo. Abbiamo già avuto modo di parlare, di presentare questa metodologia di danza e teatro, utile anche proprio per fare comunità e per creare dialogo, ma anche per approfondire le tematiche. La tematica in questo caso sarà quella dello spopolamento e del fare comunità, per cui grazie alle ragazze e ragazze che andranno in scena, agli uomini e donne che andranno in scena, avremo modo anche di farci gli auguri dalla Sala Verdi il 23 ore 17. L'ingresso è gratuito, vi aspettiamo.